Presentata la nuova centrale operativa di videosorveglianza dell'Unione della Romagna Faentina, da febbraio infatti di quest'anno il Corpo Manfredo della PM avrà a disposizione all'interno del Comando Centrale di Via Bagliatico di una moderna postazione legata al controllo video. Monitor, computer, software e personale che da caso la Valsegno e a Solarolo, passando anche attraverso un accordo extraterritoriale con il Comune di Russi, permetterà di tenere controllato e monitorato l'intero territorio. Parliamo di un investimento importante realizzato dall'Unione della Romagna Faentina insieme con la Regione Emilia Romagna ed è un salto di qualità per tutta quella che è la gestione della videosorveglianza all'interno della nostra Unione e quindi nei nostri sei comuni. Siamo molto soddisfatti di questo lavoro che è stato un lavoro lungo che mette a sistema oltre 240 telecamere su tutto il territorio dell'Unione considerando i varchitarghi e le ambientali e quindi sicuramente un salto di qualità importante per la gestione di un'infrastruttura integrata in sei comuni che ci consente di controllare e perimetrare tutto il territorio della nostra Unione. Ovviamente più si estende la rete più si hanno possibilità di controllare e di intercettare tutte quelle che sono poi le potenziali irregolarità, chiamiamole così, all'interno non solo della nostra Unione ma ovviamente della provincia e poi di un territorio più esteso. quindi c'è bisogno davvero di tutti e l'auspicio è quello nei prossimi anni di riuscire a estendere ancora di più questa rete di controllo.